guarda questa è tutta la rete dei pensieri, vedi? com'è? fetta qui si incastrano tipo un indotope, diciamo così un po' tutti i problemi, no? e noi dobbiamo cercare di eliminarli quello che sto facendo io in questo momento ciao bentornato o bentornata ciao oggi sono qui per offrirti il meglio che posso so che nell'ultimo periodo c'è qualche piccolo tormento che ti frulla nella testa giusto? hai qualche pensiero che va e viene? ma io lo sapevo, lo sapevo quando passi da qui quando passi da qui ormai lo so che è per quello se vuoi io posso esserti utile ma immagino che tu questo già lo sappia sì, posso aiutarti a rimuovere qualche fastidio, qualche pensiero brutto vedrai che con me passerai qualche minuto rilassante lontano da ogni problema voglio innanzitutto che tu ti metti a comodo o comoda ok? sì, voglio che tu stia comodo esattamente, esattamente ok? sì, perché io andrò a prelevare i tuoi pensieri negativi e per fare questo io ho bisogno che tu sia rilassato al massimo già sì, sì, sì allora siamo pronti? possiamo iniziare? ok ok, fai un bel respiro profondo insieme a me continuo, continuo a respirare profondamente ok ora che ti senti un po' più a tuo agio posso andare a ricomporre un po' i tuoi pensieri se me lo permetterai vedrai che sarà una seduta rilassante piacevole e ti farò staccare la spina dalla quotidianità almeno per un po' e soprattutto terrà 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 alla larga i pensieri negativi tu cerca costantemente nel tuo quotidiano di fare tua l'idea di non fossilizzarti troppo sui problemi ok? sì, perché poi esatto i pensieri tristi questi cubi ci rendono buie le giornate non deve essere così ok? adesso io vado a prelevare i tuoi pensieri brutti ok? iniziamo subito allora io vedo un pensiero qui appiccicato brilli 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 e taglio zac 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 spliccialo 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 soffio io allontano guarda io posso sentire anche il rumore dei pensieri brutti si sono stridenti sono stridenti eh brilli 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 soffio via lontano vediamo ancora quanti pensieri compi stanno qui l'ansia, la preoccupazione, la frustrazione, la tristezza zak 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 spliccilo soffio via guarda guarda che cos'è questa tristezza che vedo Cos'è? Cos'è questa tristezza? Vedo ancora un po' di pensieri cubi qua Cos'è questa tristezza che hai? Perché ti porti questa tristezza addosso? Guarda, questa è tutta la rete dei pensieri, vedi com'è? Fetto, qui si incastrano, tipo nido top, diciamo così Un po' tutti i problemi, no? E noi dobbiamo cercare di eliminarli Quello, sì esatto, quello che sto facendo io in questo momento Tiro 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 Come va? Va meglio? No, non ti devi preoccupare Sono solo nella nostra testa I pensieri sono solo qui Sì, sì, a volte sbagliamo perché diamo loro vita ai pensieri però Esatto, non ti devi preoccupare più di tanto Perché veramente fa stare male solo e soltanto noi stessi Questa cosa qui Ok, continuo a prelevare se me lo consenti Allora E... E... Tzac Dallio cac 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 spritolo 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 so fiori spritolo spritolo bril ... bril 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 eetallio tzac spritolo spritolo so fiori prelevo i pensieri brutti libero la tua mente da ogni forma di negatività guarda 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 i pensieri prele prele taglio zacc 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 spregiolo 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 mando via molto lontano da noi in un momento in un momento in un momento zacc 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 e poi ci sono i nostri spettatori cac cac spettino spettino colo non ti ho pensiero cac 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 spettino spettino ok bene abbiamo allontanato da te ogni forma di pensiero brutto ogni forma di pensiero negativo come ti senti adesso? oh vedrai starai ancora meglio ancora meglio ancora ancora passata qui tutte le volte che ne sentirai il bisogno guarda questo video che ti rimuoverà ogni sorta di pensiero brutto si si esattamente vi liberi la mente beh allora ci rivediamo eh ti aspetto e non pensare troppo ciao no no